Io sono partito, vai! Perfetto, allora Nicola Ricci, oggi un appuntamento della Cigelle per esprimere un senso di confondo il senso di disagio nei confronti delle manovre politiche a discapito della cultura che compiscono forte il San Carlo, dove siamo tra gli altri. Sì, è una manovra inadeguata, ci stiamo preparando lo sciopero del 29 perché è una manovra solo tagli e questo settore, soprattutto Fondazione San Carlo, rischia di pagare il prezzo più pesante. La Campania pagherà un prezzo uguale nella sanità, nelle attività produttive, è evidente che questo governo è cieco, non vuole ascoltare i lavoratori, i lavoratrici e pensa che ci sia un altro paese. Abbiamo un'occupazione che cresce, ma un'occupazione fatta di un lavoro di poco qualità, precaria e soprattutto il settore della cultura deve essere considerato un settore strategico al pari dei settori come produttivi, manufatturieri, della sanità e distruzione. La cultura non può essere vista come un optional.